Una iniziativa organizzata da Articolo 1, una assemblea pubblica qui a Taranto per capire un po' come muoversi in questa situazione riguardante ArcelorMittal-Ilva. Ogni giorno sembra un campo di battaglia con nuove iniziative, nuove prese di posizione di ArcelorMittal. Questo rapporto governo ArcelorMittal, la vostra posizione? Noi abbiamo convocato questa assemblea pubblica con un nostro dirigente nazionale di primissimo piano come l'onorevole Arturo Scotto insieme ai sindacati continuando una serie di iniziative che abbiamo messo in campo come Articolo 1 in queste settimane in vari comuni della provincia ed ora qui nella città capoluogo. Per noi è importante fare un ragionamento d'insieme, non si può tenere fuori il diritto alla salute, il diritto a vivere in una realtà ambientalmente pulita tenendola lontano dal diritto al lavoro. Oggi ci sono lavoratori, ci sono aziende che hanno problemi seri in una vicenda che vede una città spaccata in due. Noi lo diciamo senza messi termini, che siamo per il rispetto del piano ambientale, che siamo per il rispetto delle prescrizioni, che siamo convinti che un'azienda può attenersi a quelle prescrizioni, quindi salvaguardando l'occupazione e il lavoro. Noi pensiamo ad una realtà, ad un impianto siderurgico ecocompatibile, che così come è avvenuto in tante altre parti d'Europa, noi pensiamo che questa realtà possa anche applicarsi qui in Rivalo Ionio. Taranto ha tanto, Taranto può dare tanto e noi vogliamo continuare ad essere attenti alle esigenze del territorio, ma con un occhio vigile al tema del lavoro. Chiaramente il tema della salute non lo citiamo neanche perché per noi è la base, la cosa più importante, quella viene prima e poi viene subito dopo il rispetto del livello occupazionale. Nella trattativa governo Arcelor Mittal è apparsa una posizione un po' come dire quella del governo abbastanza succube, abbastanza prostrata rispetto ad Arcelor Mittal, quasi a far sì che Arcelor Mittal non possa fuggire, possa andare via. Noi domani il presidente Emiliano incontrerà l'amministratrice delegata Morselli, riteniamo che non si possa avere in questa fase una posizione che cambia a secondo dalle indagini e da quello che fanno le procure di Milano e Taranto. Noi pensiamo che Arcelor Mittal, se vuole continuare a stare al tavolo e a gestire l'azienda che ricordiamo non è di proprietà ma è soltanto con un contratto di fitto, deve mantenere gli impegni siglati nel settembre dello scorso anno. Se quegli impegni non possono essere rispettati e non saranno rispettati per noi bisognerà passare ad una gestione pubblica dell'azienda, una nazionalizzazione anche a tempo in attesa del risanamento dell'azienda per poi poterla rimettere eventualmente sul mercato. Così come il commissario straordinario Bondi già nel 2013 stava egregiamente facendo ma che poi purtroppo è stato stoppato dal governo successivo che decise immediatamente di mettere sul mercato senza il risanamento ambientale e senza il cambio della produzione. Perché questo è un altro tema importante perché noi riteniamo che la logica della decarbonizzazione sia un tema serio, sentito, che noi vogliamo rispettare e attuare anche se sappiamo molto bene che non è una cosa che riusciremo a fare in pochi mesi.